Buongiorno a tutti. Oggi sarò io a presentare il quindicesimo appuntamento della rassegna dedicata ai ragazzi dell'Accademia. Questo perché ho avuto il piacere di collaborare nella realizzazione del video, suonando insieme al nostro allievo Eric Plass, ragazzo dotato di grande musicalità. Abbiamo scelto un brano dal titolo Itinerari, composto dal maestro Armando Corsi, che è un artista genovese molto conosciuto. Quindi buon ascolto, buona visione e a presto. Ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.